Sì, si vive male perché comunque da un giorno all'altro ci siamo ritrovati questo cantiere a un passo dalle nostre abitazioni con tutti gli inconvenienti non del cantiere ma di una cava perché allo stato attuale è una cava, non è un cantiere edilizio e a parte disagi anche con paure per le nostre case e la nostra incolumità dato che in più eventi sono successi dei rotolamenti di massi e cose del genere anche con dei bambini presenti su queste scale che sono a un metro dal cantiere. Non ci dà tranquillità anche perché a ogni minimo rumore c'è gente, ci sono dei nostri vicini che poi soprattutto le casette qua sotto che escono anche, si svegliano di notte quando sentono rumori, terra che cade e non si è per niente tranquilli anche perché a parte le nostre prese di posizione, a parte i nostri provvedimenti che abbiamo preso con i nostri tecnici, mai nessuno è venuto a vedere le nostre case, è venuto a vedere le nostre condizioni in cui siamo costretti da un po' di tempo questa parte a vivere